Ma insieme al Teatro alla Scala la nostra città non può che andare orgogliosa di tutti coloro che stanno accanto al teatro, che costantemente creano occasioni di incontro, di dialogo, di dibattito, di approfondimento per far sì che l'avvicinamento all'opera, al linguaggio della musica sia sempre il più possibile consapevole e responsabile. E quindi da questo punto di vista il lavoro e il prezioso apporto che gli amici della Scala hanno dato, continuano a dare e daranno anche in futuro, non può che essere salutato con grande ammirazione e appunto una grande simpatia che il sindaco Pisapia mi ha pregato di esprimere alla signora Crespi e a tutti voi che siete qui convenuti. Grazie e buona serata.